Da stasera al 25 aprile torna a Villaseta il Circo Viviana Orfei. Quali spettacoli proporrete ai visitatori? Sì, allora da questa sera il Circo Viviana Orfei si intratterà qui ad Agrigento in località Villaseta con uno spettacolo molto divertente sia per bambini che per adulti, con nuove attrazioni e tutti giovani artisti provenienti da tutta Europa con molte sorprese e molti animali tra cui un gradito evento proprio successo qui ad Agrigento due giorni fa è nato un nostro piccolo cammellino e gli abbiamo dato il nome di Acragas in onore di Agrigento proprio perché ci ha portato, come dire, fortuna perché è un evento che non succede molto spesso in un circo viaggiante perciò siamo contenti e vi aspettiamo qua al circo e veniteci a trovare. Quale chicca possiamo svelare? Allora ci sono siccome ho detto tante attrazioni aeree perciò in aria e anche a terra tutte molto belle e anche pericolose però voglio tenere questo segreto per voi perché è una sorpresa e vi vorrei invitare a venireci a trovare così lo scoprirete voi. Puoi dirci i giorni e gli orari? Sì certo, allora il Circo Viviana Orfei si tratterà qui ad Agrigento in località Villaseta dal 13 al 25 aprile tutti i giorni presentando due spettacoli, il primo alle 17.30 e il secondo alle 21.15. Non mancate!